Devo dirvi una cosa che non ho mai detto a nessuno. Io sono drogato. Sono drogato di organo Hammond, da sempre. Sono cresciuto ascoltando tastieristi come Jimmy Smith o ascoltando tastieristi come Winder K. Frog o il grandissimo Brian Hogger e ho una passione smodata per questo strumento. Secondo me è lo strumento più bello del mondo, caldissimo, intenso. E' proprio lo strumento più adatto da mettere sui giradischi, sui piatti, anche quando si fa all'amore. Quindi ve lo suggerisco l'organo Hammond. L'organo Hammond. Non vorrei fare giochi di parole, ma vabbè. Questo è quanto. Voglio dire un'altra cosa. Abbiamo una grande fortuna in Italia di avere un grandissimo Hammondista che non è famoso soltanto in Italia, è famoso anche all'estero e dopo dieci anni che Cosmopolitan Greetings noi segue e guarda caso è qua questa sera suonare la cena di radio Onda d'Urto. Abbiamo con noi da Roma Francesco Gazzara e gli Hammond Express. Grazie. 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 Però. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.